Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Conorderm. A cosa serve Conorderm ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda Italsama SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Italsama SRL. Concessionario. Italsama SRL. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Conorderm 60. Capsule 0,67G. 40,2G. Indicazioni. Azione antiossidante per inattivare i radicali liberi responsabili su processi di ossidazione. Ingredienti. Inositolo. Vitamina PP. Amido. Vitamina E. Beta carotene. Silenio. L. Cistina. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.